Ho trovato 5 applicazioni che puoi iniziare ad utilizzare ogni giorno per guadagnare semplicemente dal tuo telefono E la cosa interessante è che queste applicazioni non richiedono nessun tipo di competenza e soprattutto sono totalmente gratuite Ma iniziamo subito con la prima app La prima app è Gamehug Se hai del tempo libero durante il giorno e vuoi sfruttarlo per fare soldi divertendoti, quest'app fa il caso tuo Guadagnare soldi in questo caso è davvero facilissimo Quello che sostanzialmente devi fare è giocare a dei giochi online che ti vengono proposti dall'app Verrai pagato in Soul Gems Una volta prese queste gem puoi riscattarle per prendere vari premi Come ad esempio soldi Paypal, buoni Amazon eccetera Quanto guadagnerai ovviamente dipende da quanto giochi Ma ogni 500 gem potrai guadagnare tra le 1 e i 3 euro Ed essendo che noi ci troviamo in Italia guadagneremo mediamente 2 euro ogni 500 gemme Come difficoltà da 1 a 10 do il voto di 4 Perché alla fine basta solamente giocare ed è molto facile farlo Ti lascio il link in descrizione per iscriverti La seconda app per guadagnare soldi è Nexo E con quest'app puoi anche non fare nulla e guadagnerai lo stesso Nexo è una piattaforma di servizi cripto centralizzata Ma le cose interessanti di quest'app sono principalmente 2 Prima sono gli interessi fino al 16% Sostanzialmente ti basta depositare dei soldi su Nexo e attivare lo staking su una stablecoin In base a quanti soldi depositi, per quanto tempo lascerai fermi lì i soldi E che tipo di account hai, potrai guadagnare una certa percentuale E la cosa bella è che gli interessi ti vengono dati ogni giorno Per farti capire Se ad esempio depositassi 1000 euro ed avessi un interesse del 16% Guadagneresti 160 euro solamente per aver depositato i soldi E la seconda cosa più interessante è il cashback Infatti Nexo ti dà la possibilità di utilizzare la loro Nexo Card Che puoi aggiungere anche al tuo wallet sul telefono E semplicemente per ogni pagamento che andrai a fare Ti darai il 2% di cashback Immagina di utilizzarla ogni giorno E vedrai nel tempo quanti soldi ti permetterà di risparmiare Nexo ha moltissime altre funzioni E se vuoi un video dove te ne vado a parlare in maniera più approfondita Fammelo sapere con un commento A quest'app do una difficoltà di 2 su 10 Perché letteralmente ti basta solo depositare e hai fatto Ti lascio il link in descrizione per scaricarla La terza app che ti permetterà di guadagnare soldi Comodamente e da casa e semplicemente dal tuo telefono È Polpay Quest'app ti pagherà per dare le tue opinioni sotto forma di sondaggi Ok ma andiamo dritti al sodo Quest'app ti renderà ricco? No, non è lo scopo di questo video Lo scopo è quello di farti guadagnare i soldi extra quando hai del tempo libero E per farlo ti basterà rispondere ai loro semplici sondaggi L'app ti permetterà di scegliere tra tantissimi sondaggi Puoi anche decidere di farne brevi o lunghi In base al tempo che hai a disposizione Ed ovviamente più il sondaggio sarà lungo e più potrai guadagnare Infine potrai prelevare tramite Paypal O tramite tutti gli altri metodi di pagamento che ti mettono a disposizione L'app è disponibile sia sul Play Store che sull'App Store Come voto sulla difficoltà gli do un 3 su 10 Perché è molto semplice ma dovete comunque pensare a come rispondere alle domande Link per scaricarla in descrizione La quarta app che ti mostro ti permette di guadagnare semplicemente utilizzando il telefono Come fai ogni giorno Il suo nome è Honeygain E ti permette di guadagnare semplicemente scaricandola ed utilizzando internet ogni giorno Quest'app lavorerà semplicemente in background Andando a raccogliere tutti i dati sulle tendenze delle persone E questo ti permetterà di guadagnare senza fare nulla Non preoccuparti non tracceranno le tue informazioni personali Andando sul loro sito puoi vedere che il pagamento dipende da quanti dispositivi hai collegati e quanto internet consumano Se fai scaricare l'app a tutta la tua famiglia ed utilizzate internet ogni giorno Potete arrivare a guadagnare anche 184 euro al mese A quest'app do una difficoltà di 1 su 10 Perché vi basta letteralmente scaricarla e avete fatto Ti lascio il link in descrizione La quinta ed ultima app si chiama Lime Sicuramente avrai visto la crescita esponenziale che c'è stata di monopattini elettrici, bici elettriche nella tua città E puoi sfruttare questo trend per guadagnare C'è una compagnia che ti paga per mettere a posto e ricaricare i loro monopattini e bici elettriche L'unica cosa che devi fare è scaricare la loro app ed iscriverti come Juicer E ti pagheranno tra i 20 e i 30 euro l'ora solamente per ricaricare i loro veicoli Per farlo però devi essere maggiorenne, mi raccomando A quest'app do una difficoltà di 8 su 10 Perché dovete comunque essere in una grande città Perché dovete recarvi fisicamente nei posti Provare veicoli, metterli in carica, eccetera Mi raccomando, prova queste app A presto